Salve a tutti! Nel video di oggi proverò a realizzare uno slime dedicato alla festa di Halloween. Come al solito, per prima cosa, nella sottolina verso la mia colla trasparente. Successivamente aggiungo questi occhietti. Poi verso un po' di smalto verde fluo per dare il colore al mio slime. Mescolo bene. E aggiungo un po' di questa polvere speciale che farà illuminare al buio il mio slime. Ora, man mano vado aggiungendo il detersivo e mescolo. Continuo ad aggiungere il detersivo e mescolare finché non raggiungo la consistenza giusta. Ed ecco qua il mio slime! Spero il tutorial vi sia piaciuto e vi è stato utile. Un bacio e al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.